Puoi andare, Carlo? Buon pomeriggio a tutti voi. Sono Carlo Santoli, direttore della rivista Sinestesie e di Sinestesie Online, docente di letteratura italiana contemporanea presso l'Università degli Studi di Salera. Buon pomeriggio dal salotto letterario dell'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie, di cui sono presidente, per la presentazione del libro Gli esordi del violoncello a Napoli e in Europa, a cura di Tinko Fabris, prefazione di Vincenzo De Gregorio, Barletta Cafagna Editore 2020, promosso e organizzato anche in collaborazione con la Fondazione Carlo Gesualdo e l'Istituto Italiano di Studi Gesualdiano. Porgo anche un saluto cordiale da parte del professore Agostino Zino, Università di Roma Tor Vergata e presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, che oggi non può essere con noi per impegni già assunti, ma è molto onorato di questa presentazione e saluta tutti voi. Un cordiale e deferente saluto mi sia consentito anche alla professoressa Rosa Maria Grillo, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salera, al Comitato Scientifico di Sinestesie e di Sinestesia Online, alla redazione, alla redazione libri e al coordinamento di redazioni, all'Ufficio Stampa di Sinestesie, all'Ufficio Stampa della Fondazione Carlo Gesualdo e dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani che promuovono questo evento alla regia del webinar. Saluto con viva cordialità il notario Edegardo Desiri, sindaco di Gesualdo, il professor Bingo Fabris, Università della Basilicata e direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, l'architetto Raffaele Fulchini, presidente dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, il professor Agostino Zino, Università di Roma Tor Vergata e presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, il professor Orazio Longo, il professor Paolino Marotta, presidente dell'Andis, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per l'Italia, il dottor Flavio Petroccione, Ministero dei Beni Ambientali, Culturali e Territoriali. Discuteranno di questo interessante volume i professori Mark Van Sciwick, violencellista barocco e docente all'Università dell'Oregon, Stati Uniti. Gli è stata anche la partecipazione del Monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma Vaticano, Marco Ceccato, violencellista barocco, nonché docente all'Università di Oporto, Guido Olivieri, musicologo docente all'Università del Texas a Austin, Stati Uniti, Matteo Malagoli, violista da gamba e dottore di ricerca al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma Vaticano, Luigi Sisto, conservatorio Niccolò Piccini di Bari. Coordinerà scientificamente i lavori di questo pomeriggio il professor Dinko Fabris, seguirà un dibattito con gli autori e tutti i partecipanti, un ringraziamento giunga all'editore di questo volume, che è l'editore Cafagna, al violoncellista barocco Guillermo Turina da Barcellona, al maestro Antonio Florio, dipartimento di musica antica del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e direttore della rassegna Sicut Sagit di Napoli. Ma anche un caro saluto al professor Angelo Meriani, lingua letteratura greca dell'Università degli Studi di Salerno, che ringrazio per la sua partecipazione, è un onore averlo qui con tutti quanti noi e che parteciperà non soltanto ai lavori ma anche al dibattito per la presentazione di questo libro. Al professor Dinko Fabri scedo ora la parola. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Carlo Santoli ha ben introdotto le tante istituzioni che sono coinvolte in questa piattaforma che durante l'epoca del nostro confinamento ha svolto un grande compito culturale di diffusione, presentazioni di libri e che farà ancora molte cose con l'Istituto di Studi Gesualdiani e con la Fondazione Carlo Gesualdo del Comune di Gesualdo, soprattutto nella prossima estate, dando vita anche a una summer school gesualdiana, per cui ringraziamo proprio Sinestesie e per questo strumento così prezioso messo a disposizione gratuitamente. In effetti questa è la prima presentazione pubblica del volume che in realtà è ancora abbastanza fresco di stampa, visto la luce appunto nel periodo di isolamento e ha cominciato ad essere distribuito solo da poche settimane, ma sta già riscontrando una grandissima attenzione e un grandissimo interesse a livello internazionale. Prima di andare a vedere quali sono i contributi specifici che rendono questo volume così importante e così attrattivo, vorrei chiedere al maestro Antonio Florio che è un amico personale e una persona che io stimo e ammiro tantissimo da oltre 45 anni con un lavoro meraviglioso da lui condotto fin da quando era ragazzino sulla musica napoletana antica e che ha avuto l'idea all'interno della sua rassegna napoletana Sicut Sagitte di convocare appunto i massimi esperti di storia del violoncello per capire qual è il ruolo di Napoli all'interno di questa storia. Quindi chiederei ad Antonio Florio, considerando anche le difficoltà di collegamento di questa giornata perturbata da eventi meteorologici e da situazioni diverse di ciascuno di noi, di poter prendere velocemente la parola per un saluto e magari anche spiegarci come mai ha avuto questa idea. Antonio Florio. Mi ascoltate? Mi sentite? Sì, sì, perfetto. Sì, sì. Allora, io sarò breve perché qui è in atto un ubicoraggio terribile, quindi penso che fra un po' andrà via anche la luce. e niente, io sono molto grato a tutti per aver partecipato e per aver scritto delle cose estremamente esaustive e interessanti su un argomento che mi interessava sin dagli esordi della mia ricerca, perché essendo anch'io violoncellista, come altri che sono qui collegati. Poi io non ho suonato più da diversi anni, però ho sempre avuto, sono sempre stato incuriosito proprio dal repertorio napoletano e da queste due fonti, le più interessanti, che sono quella di Monte Cassino, con Rocco Greco e altri autori che si girano in questo, Francone e Bononcini. E poi dalle edizioni di Supriani, dalle manoscritti che si trovano al Conservatorio San Pietro e Maiella e quindi 30-40 anni fa, anche forse di più, furono catalogate come sonate per due violoncelli, in realtà sappiamo, ne abbiamo anche discusso. Una cosa che io trovo molto interessante è questa toccata che figura tra quelli di Supriani, in cui il violoncellista deve affrontare tutto il setticlaglio e praticamente anche la chiave di violino terrorizzata che in qualche modo, secondo me, fa capire che il violoncello quando era scritto in chiave di violino in molti casi in realtà la terrorizzava. Questa è una mia teoria, però. Poi c'è da dire anche che in realtà non c'era mai stato un... non c'era mai focalizzato questo argomento così in maniera esaustiva come è stato fatto, non da me, ma da tutti i compartecipanti. Trovo che sia molto interessante aver anche pubblicato perché oggi è difficile pubblicare così come anche le incisioni discografiche e credo anche l'editoria con l'avvento del computer, di internet, diciamo, hanno molta difficoltà a sopravvivere. però, per quanto io ne sappia, questo libro ha già avuto dei riscontri molto interessanti perché conosco persone che mi hanno detto ah sì, l'ho comprato, ah sì, l'ho ordinato, ah, è molto interessante. Quindi, voglio dire, è già un primo passo importante. Quindi grazie all'editore soprattutto che ha creduto in questo progetto. Io vi lascerò fra poco per cui vi saluto con molto affetto e con molta stima e arrivederci quindi. Bene, prima di passare alla parte che è stata annunciata da Carlo Santoli Scientifica, riteniamo doveroso con Carlo appunto adesso ascoltare il saluto di chi ci ospita e delle istituzioni che hanno collaborato, come abbiamo detto. Quindi abbiamo anticipato Antonio Florio per i motivi che vi ha detto, lo ringraziamo tanto e poi finché potrà seguirci lo farà, sono sicuro. e quindi Carlo puoi tu annunciare appunto i saluti. Sì, cedo ora la parola al notaio dottore De Cardo Pesiri, sindaco del comune di Gesualdo. Allora, ringrazio tutti. Ringrazio amico frate l'impegno accanto, ringrazio di cuore. Ringrazio la vostra passata va bene, grazie, c'è un problema tecnico ovviamente, sono problemi di connessione, quindi cedo anche la parola all'architetto Raffaele Cuffini, tutti i presidenti dell'Istituto Italiano di Studi Pesiri. Grazie notario, grazie sindaco del suo impegno istituzionale per Gesualdo, per la comunità, per la valorizzazione del suo territorio, del principe, del nostro principe Carlo Gesualdo, ci vedremo ad agosto, saranno invitati anche tutti i nostri cari amici, musicologi, per i lavori della Summer School su Carlo Gesualdo, qui devo molto a Dingo Fabris, al collega, al professor Fabris, dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, Università della Basilicata, devo anche molto al professor Agostino Zeghino, presidente della fondazione Carlo Gesualdo, ai musicologi, e per la celebrazione di questa opera omnia su Carlo Gesualdo, cui ha dato un contributo significativo, importante, alla fondazione, il comune di Gesualdo, con il suo sindaco, notario De Cardo Pesiri, e poi anche il contributo per la cultura che l'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani sta approfondendo, adesso, anche in questa fase emergenziale, l'ho fatto già precedentemente, con diverse iniziative importanti, la prima edizione della Summer School dedicata a Carlo Gesualdo, ora la seconda edizione che sarà su piattaforma Zoom dell'Associazione Sinestesie, quindi ringrazio un po' tutti i membri della fondazione, il consiglio amministrativo degli studi di Ani e Studi Gesualdiani, il suo presidente, l'architetto Raffaele Fulchini, ricedo la parola al professor Dingo Fabris per il coordinamento scientifico dei lavori. Grazie. Bene, entriamo allora nel vivo di questa presentazione e per entrare nel vivo della presentazione di un libro... Senti? Si sente troppo male, mi spiace. Scusate, io... Scusate, Cinco, Cinco, io ci sono, sono Raffaele Fulchi, però mi hanno stoppato il video. Eh, non importa, dai Raffaele, facciamo il saluto... volevo solo dare un saluto, visto che il sindaco, scusi, pure senza delegato, visto che il sindaco già l'ha fatto, io mi unisco ai saluti del sindaco e saluto tutti gli intervenuti e le istituzioni che rappresentano. mi fa molto piacere che Gesualdo abbia questa nuova, diciamo, era di cultura che possa veramente assurgere ad un titolo quello di Capitale della musica polifonica Gesualdiare e non solo. E quindi mi fa piacere che c'è un utilito gruppo di esperti, di maestri e di professori che fanno questo e lavorano per questo. Il Don in bocca al lupo e a tutti quanti e veramente questo lavoro produca degli effetti particolari e in particolar modo per la musica e per tutto lo scenario musicale nazionale. Io vi auguro il buon lavoro e ascolto con piacere la vostra discussione. Grazie. Siamo noi che ringraziamo Raffaele Fulchini che dopo il sindaco Esgardo Pesiri ha rappresentato la cittadina di Gesualdo che sta per annunciare dei piccoli miracoli in un'Italia così complicata. succederanno anche cose molto belle per esempio il completamento del restauro del castello del principe Carlo Gesualdo e la possibilità di fare tante iniziative musicali. Ma adesso andiamo a parlare di uno strumento che al tempo di Carlo Gesualdo non era stato neanche minimamente pensato come uno strumento importante perché la concezione musicale era molto molto distante da quella che poi avrebbe giustificato l'origine l'esordio del violoncello e per cominciare a parlare di questo volume guardiamo il volume naturalmente anche per apprezzare lo sforzo grafico di questo editore coraggioso di una città della Puglia quindi del sud Barletta Vincenzo Cafagna Cafagna editore ha creato coraggiosamente una collana musicale pensate un po' al sud che mi ha voluto affidare che si chiama Le vie dei suoni e che ha un comitato scientifico però formato da 14 docenti di università di tutto il mondo quindi è una struttura assolutamente comparabile a quella delle grandi case editrici di musica che compiono il loro lavoro scientificamente e infatti questo è un contributo scientifico ineccepibile nel descrivere le varie parti che lo compongono non c'è niente di meglio che sentire brevemente i singoli autori quindi adesso ci sarà una carrellata di interventi dei singoli autori delle varie parti che sono formano una specie di viaggio alla scoperta della vera natura di questo strumento e i suoi esordi appunto gli esordi del violoncello a Napoli in Europa tra 6 e 700 il titolo completo sarebbe stato con noi con grande piacere Vincenzo De Gregorio Monsignor De Gregorio è il preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma ma è anche tante altre cose è un vero apostolo della musica sacra possiamo dire dell'importanza della musica nella nostra società anche in seno al Pontificio Consiglio della Cultura e mi ha pregato di salutare tutti così come ha scritto nella prefazione quella giornata da lui presieduta a Napoli nel 2018 è stata una giornata di grandi scoperte che rafforzano sempre di più l'idea che bisogna andare oltre i luoghi comuni e le cose che sembrano acquisite lui però adesso sta facendo il suo lavoro di prete cioè alle 17 aveva messa nell'isola di Capri dove ogni sabato deve celebrare messa e non quindi penso che tutti noi lo possiamo facilmente giustificare sarà con noi in spirito ancora più evidente andiamo al primo contributo il primo contributo di un volume di quasi 200 pagine pensate che occupa da solo il 70 scusate occupa da solo 75 pagine su quasi 200 quindi pensate quanto è corposo questo articolo che apre il nostro volume l'articolo di Mark Van Schoevich che abbiamo voluto lasciare in inglese proprio perché siamo consapevoli che mancasse uno studio che potesse fare il punto su tutto quello che si conosceva già del violoncello cioè Mark si è assunto il compito visto che come specialista non solo come musicista pratico in attività con tanti gruppi in giro per il mondo ma anche come docente all'Università dell'Oregon e come studioso ha pubblicato tanti articoli e tanti studi sul violoncello ma lui ci parla del violoncello e altri violini bassi nell'Italia barocca partendo da una domanda che cos'è il violoncello what is the violoncello e poi esamina una serie di di punti focali per capire l'organologia per capire l'iconografia per capire la notazione per capire le fonti musicali che esistono i documenti eccetera eccetera e non soltanto naturalmente di un violoncello italiano il suo esame è a 360 gradi ma vedremo dalle parole che spero Mark ci potrà adesso riportare che non si esime dal pungere alcune questioni che erano state un po' esagerate nel passato e quindi senza pedi sulla lingua dice anche la sua su alcune cose che erano state proposte un po' troppo senza ragioni storiche negli ultimi anni sull'uso di certi violoncelli nella prassi esecutiva barocca quindi Mark se riesci a prendere la parola ci farebbe un grande piacere benissimo grazie buonasera buongiorno a tutti e voglio innanzitutto ringraziare Dinko Fabris per aver curato il volume perché so per esperienza che è un lavorone e che insomma richiede molta pazienza e molta molto lavoro in dettaglio quindi grazie Dinko per aver deciso di pubblicare un volume all'esito di questa bellissima giornata dell'inizio di ottobre 2018 ecco allora come diceva appunto il mio articolo fa una una un'ottantina di pagine penso e quello che ho cercato di fare è di dare un po' un'idea generica del del violoncello dei bassi di violino piuttosto soprattutto in Italia però per necessità sono dovuto andare anche un pochino fuori perché il modo in cui ho cercato di ricostruire un po' questa questa storia del nostro strumento è appunto di partire dalla pratica di oggi praticamente che cosa è il violoncello barocco oggi e ponendo questa domanda è vero che questo violoncello che suoniamo oggi potrebbe magari non essere proprio lo strumento che si era suonato nel periodo barocco questa era un po' la domanda di base perché ovviamente il violoncello come lo abbiamo suonato diciamo dagli anni sessanta in poi parlandone come di violoncello barocco è basato su praticamente lo strumento moderno al quale vengono fatte alcune modifiche corde di budello ponticello diverso altro arco altre costruzioni interne senza puntale eccetera eccetera però tutti questi violoncelli barocchi odierni sono più o meno uguali nel senso che hanno le più o meno stesse misure e quando guardiamo l'iconografia vediamo una cosa molto diversa allora i primi violoncellisti barocchi della seconda metà del ventesimo secolo ovviamente hanno cominciato a cercare le fonti non solo per capire la storia dello strumento eccetera ma soprattutto anche per cominciare a studiare a partire da metodi del periodo barocco allora il primo metodo che abbiamo per violoncello è quel libro di Michel Corret che fu pubblicato nel 1740 ovviamente a questo momento 1741 scusi e quasi metà del settecento ovviamente siamo già fuori del periodo barocco quindi ho organizzato questo mio intervento che cerca di sintetizzare senza purtroppo poter entrare in tutti i particolari lo sviluppo appunto dei bassi dei vari bassi di violino nel periodo barocco quindi precedente praticamente a Michel Corret purtroppo come dicevo non abbiamo un metodo per o che ci insegna a suonare lo strumento prima di questo periodo post barocco e poi a Parigi quindi ho organizzato l'articolo o il capitolo diciamo in questo modo vado un po' indietro cioè parto da Corret ovviamente perché è la nostra prima fonte e torno indietro parlando un po' del primo settecento e poi passo al seicento e finisco con una parte che mette o rimette un po' in questione tutta la storia del cosiddetto violoncello da spalla al quale ho dedicato la parte finale praticamente dell'articolo quindi parto dalla metoda teorica e pratica può apprendere un po' di tempo e nella perfezione le violoncelle interessante perché ovviamente con un titolo così Michel Corret già annuncia il fatto che il trattato è scritto per i dilettanti ovviamente i professionisti non andavano a studiare da un metodo stampato ma studiavano con un maestro che sia nelle scuole di cattedrali o di chiese oppure nei conservatori napoletani o altre scuole di musica quindi già questo ci informa di di stare un po' attenti oggi da violoncellisti professionisti di andare a ispirarsi praticamente di un trattato che è stato concepito per dilettanti di musica però Corret da multistrumentalista o strumentista che ha pubblicato dei metodi per praticamente tutti gli strumenti della sua epoca per me o almeno la mia lettura del metodo di Corret per me Corret ha praticamente presentato in questo metodo una specie di manifesto per il violoncello che chiamerei il violoncello classico che è appunto il nostro violoncello moderno o il violoncello che chiamiamo oggi il violoncello barocco perché ci sono molte indicazioni anche a livello retorico nel metodo che veramente presenta un certo numero di pratiche che adesso abbiamo ripreso ovviamente da una sessantina d'anni e che annunciano veramente cose nuove uno strumento tenuto in un certo modo con un arco tenuto in un certo modo con un tipo di diteggiatura che è ovviamente molto vicino a quella moderna quindi le mie domande erano da dove viene tutto questo e è vero che prima di Corret il violoncello era come lo racconta Corret invece informandomi sia dai documenti dai trattati dall'iconografia un po' anche dagli strumenti perché purtroppo sono rimasti pochissimi pochississimi direi che hanno sopravvissuto il 600 il 700 l'800 il 900 senza essere trasformati perché ovviamente tanti strumenti hanno delle parti antiche ma sono sempre stati adattati alle prassi contemporanee e quindi cambiati spesso in modo che non possiamo nemmeno più ricostruire come erano strumenti più grandi sono stati ridotti strumenti più piccoli magari sono stati ridotti ancora di più rifatti in altri strumenti in viole in tenori eccetera eccetera quindi andando a cercare un po' in tutte da tutti questi punti di vista iconografici teorici e nel repertorio si vede che già o ancora nella prima metà del 700 abbiamo praticamente due gruppi nei bassi di violino o di viola se si vuole perché abbiamo gli strumenti che all'epoca venivano chiamati violoni e che sono piuttosto di grande di grande taglia e che sono comunque più grandi del violoncello odierno e poi ci sono i piccoli violoni cioè i violoncelli che sono strumenti prima degli anni 1730 più o meno molto più piccoli del violoncello moderno oggi facciamo purtroppo la differenza fra violoncello e violoncello piccolo che è un po' un'assurdità che è un doppio diminutivo di un aumentativo insomma alla fine diventa un po' strano però il violoncello diciamo che fino agli anni 30 del 700 è uno strumento più piccolo del violoncello odierno quando si arriva poi nel 600 vediamo che la parola violoncello appare per la prima volta in una stampa di un organista bolognese Giulio Cesare Arresti nel 1665 allora non è il caso di fare la storia di una parola facciamo piuttosto la storia di uno strumento perché ovviamente in ogni regione italiana e anche fuori dall'Italia ognuno chiamava gli strumenti a modo suo e quindi sicuramente non c'è nessuna standardizzazione negli appellativi e vediamo che anche in tutto il 600 ci sono proprio queste due famiglie nei bassi di violini che sono o più piccoli dei violoncello moderni o più grandi dei violoncelli moderni quindi violoncini o bassetti come li chiamavano già negli anni 70 Stephen Bonta aveva fatto tutto un lavoro sulla storia della terminologia che poi è stata raffinata e fatta molto più in profondità da un recentissimo libro di Bettina Hoffman che è intitolato i bassi d'arco di Antonio Vivaldi e che fa veramente uno studio molto approfondito e dettagliato sia della terminologia che è di tutti i centri italiani quindi a questo proposito già conosciamo abbastanza bene la terminologia quindi in questo mio articolo non sono andato in quella direzione ma piuttosto a vedere un po' quale sono le modalità le differenze fra questi strumenti e vediamo che spesso i bassi in genere della famiglia dei violini che emergono già nel primo Cinquecento e che hanno che sono sempre stati praticamente gli strumenti dei musicisti professionisti più che altro quindi suonati in chiesa suonati fuori suonati in corte eccetera e questi strumenti esistevano in una grandissima varietà di tipi a parte la la grandezza diciamo in centimetri di un gruppo più piccolo e un gruppo più grande ci sono anche grandissime varietà di numeri di corde cioè il violoncello del 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 Seicento o il violone del Seicento può avere quattro corde cinque corde per alcuni più grandi anche sei cordi anche certi strumenti potevano pure avere le frette come la viola da gamba e abbiamo infatti molti strumenti del Seicento di cui è molto difficile dire se si tratta di una viola da gamba o di un basso di violino perché hanno sei corde e anche le frette anche se le forme degli strumenti a quest'epoca non sono standardizzato come le pensiamo oggi ma ci sono come nell'iconografia peraltro una grandissima varietà di quello che chiamiamo ibridi perché infatti l'idea della viola da gamba e del violoncello come lo pensiamo oggi è un'idea che nasce nel Seicento ma che veramente prende piuttosto importanza dal momento delle grandi standardizzazioni nell'Ottocento e nel Novecento quindi ho studiato un po' le varie scuole per il Settecento partendo ovviamente da Corrette e ho dovuto anche esplorare un po' la Parigi dell'epoca e quali musicisti stavano proprio a introdurre il violoncello a Parigi e uno di questi è un napoletano Salvatore Lanzetti il che mi ha riportato un po' soprattutto per la fine del Seicento a ragionare sulla domanda o sulla questione se veramente come dicono tanti autori il violoncello fosse nato a Bologna o a Modena o comunque in Emilia è vero che il primo repertorio solistico che veramente viene indicato con la parola violoncello ci viene da Bologna e da Modena soprattutto da Modena anche se molti musicisti come Gabrielli come Iacchini erano bolognesi solo che si tratta solo della letteratura solistica per questo strumento vediamo che a Bologna e a Modena c'è ancora questa grandissima varietà di tipi di strumenti strumenti più piccoli strumenti più grandi accordati in vari modi con quattro o cinque corde suonati anche in vari modi e ci tornerò quando parlerò fra un attimo del violoncello da spalla abbiamo anche abbastanza iconografia che rappresenta violoncellisti che suonano strumenti rovesciati proprio tenuti in modo praticamente orizzontale che si chiama tenuto da spalla però nell'economografia vediamo solo strumenti molto grandi non i piccoli strumenti che vengono usati nel ventunesimo secolo comunque a Bologna quindi abbiamo e a Modena abbiamo tutti questi strumenti di varie grandezze accordati in vari modi e c'è ancora questa tipica varietà del seicento bisogna anche dire che per tutto il seicento il modo normale per l'impugnatura dell'arco non è quella moderna con la mano prona sull'arco ma supina sotto l'arco piuttosto non direi come i violisti da gamba ma piuttosto come i contrabassisti della scuola tedesca che tengono veramente l'arco all'interno del nasetto piuttosto che più avanti sulla sulla bacchetta invece a Napoli dove magari abbiamo un repertorio che si sviluppa un pochino più tardi appunto come menzionava Antonio Florio in quel manoscritto di Monte Cassino datato del 1699 ma ovviamente un po' antecedente consonate di Rocco Greco e di anche Bononcini abbiamo le prime letteralmente che parlano di viola ma in chiave di basso che quindi è un basso di violino un violone come si direbbe più al nord in Italia e troviamo i primi violoncellisti come Alborea come Supriani di cui abbiamo pochissima iconografia ma che attraverso qualcuno come Lanzetti che poi andò a Parigi e si esibì negli anni 30 tenendo proprio l'arco del violoncello più piccolo in modo prono quindi è quello che propongo è un'idea Mark scusi siccome naturalmente il tuo contributo è quello più grande del volume naturalmente ti stiamo dando anche uno spazio adeguato per poter fare ma servirebbe un'intera trasmissione per raccontare tutta la storia sto concludendo adesso che tu non privassi gli ascoltatori invece di quello che hai promesso cioè di qualche bacchettata anche e l'hai già annunciata una quindi ecco prima di passare ad un'altra voce sarebbe bello che volevo ricordarti questo in modo e anche naturalmente a tutti che se riusciamo a tenerci nel massimo tempo di dieci minuti potremo fare poi anche un giro secondo di pareri e un bel dibattito finale va benissimo allora quindi la mia proposta era di pensare veramente Napoli come il primo centro del violoncello come lo presenta Michel Corret quindi in quel senso Napoli piuttosto che Bologna sarebbe la culla del violoncello classico il violoncello come lo conosciamo a partire dagli anni 1730 e poi infine dell'articolo parlo appunto di questo violoncello da spalla che è stato inventato all'inizio del ventunesimo secolo da un liuttaio che si chiama Dimitri Badiarov e che ha collaborato con Sigis Waltkeken nello sviluppo dello strumento ispirandosi di strumenti che purtroppo si sono avverrati essere dei falsi storici perché ricostituiti come dicevo all'inizio a partire da elementi di strumenti molto più dell'epoca appunto del primo settecento ma riorganizzati rifatti praticamente nel primo ottocento quindi lì metto un po' in fila tutti gli argomenti che mi sembrano importanti per sì per far capire che questo strumento anche se funziona abbastanza bene nelle mani dei bravi musicisti oggi non ha senso nel nell'ambito della prassi esecutiva della musica antica su strumenti storici eccetera perché uno degli argomenti a parte il fatto che è basato su dei falsi storici e anche che per farlo funzionare perché è così piccolo appena più grande di una viola è un po' più profondo lo strumento di misure è uguale a uno strumento del Tardo Cinquecento che si trova alla Domkirch a Freiberg e che è veramente un contralto che se ci mettiamo delle corde di budello puro ovviamente scendere al di sotto della cordatura di una viola moderna praticamente è impossibile perché la lunghezza vibrante delle corde non concederebbe di andare più basso invece questo strumento che adesso è stato rinventato e chiamato violoncello da spalla con pochi argomenti storici purtroppo necessita l'uso di una corda doppia filata per farlo funzionare allo stesso di Apason del violoncello e purtroppo la doppia filata è una cosa di cui abbiamo le primissime menzioni alla fine degli anni sessanta del 1700 quindi comunque anche se magari anticipiamo l'uso di questa corda doppia filata anche al 1750 è uno strumento che è esistito per forza perché abbiamo degli strumenti nei musei per esempio a Norimberga a Berlino eccetera ma come fosse accordato quello è il problema grande comunque per utilizzarlo per fare i concerti di Vivaldi le suite per il violoncello di Bach lì siamo completamente nell'ambito non storico della musica antica perché è impossibile che lo strumento venisse accordate proprio all'ottava del violoncello avendo queste misure così minime ecco mi fermo qui comunque avremo possibilità immagino di parlarne di più nel nel dibattito ti ringraziamo di cuore perché si è vista la passione con cui questa storia è stata raccontata e anche fa capire i tanti misteri che rimangono naturalmente le tante prospettive per la ricerca ricordo che Mark è anche l'autore dei testi che accompagnano questo libro disco in più dischi molto molto utile sempre per un avvicinamento si chiama Cello Stories in francese in realtà Un histoire di violoncello che parla appunto delle cose che in qualche modo ci sono state riassunte facendo anche sentire una grande antologia di musiche perché ho usato il disco perché uso anche un disco per introdurre il secondo contributore che Marco Ceccato e che ci parla di Roma infatti Marco che adesso prenderà la parola tra l'altro in qualche modo l'abbiamo voluto anticipare sia nel libro che in questa discussione proprio perché nelle storie che noi conoscevamo già c'erano due punti fermi c'era Modena Bologna come origine florida di questo strumento e dei suoi primi virtuosi e poi immediatamente dopo Roma come se non ci fossero altre diramazioni precedenti e quindi abbiamo voluto seguire questo itinerario e in qualche modo però ci sarà già molto chiaro da quello che ha anticipato Mark Van Schoeven che la grande novità che viene fuori da Napoli è l'avere una musica virtuosa che crea immediatamente una scuola cioè il violoncello entra nei conservatori si crea una scuola e poi i grandi virtuosi napoletani si diffonderanno dovunque lui ha fatto il caso estremo di Lanzetti partendo però appunto da Supriani e Alborea e non a caso tutto questo avviene a Roma dove pure si ritrovano altri virtuosi provenienti dall'Emilia Romagna di oggi altri virtuosi che poi andranno a Londra che andranno a Parigi e di questa storia ci racconta molto bene Marco Ceccato che appunto è tra l'altro il direttore di un gruppo musicale che si chiama Accademia Ottoboni e che ha dedicato questo disco molto molto ben riuscito al violoncello del cardinale appunto Ottoboni come grande mecenate di virtuosi del violoncello ricordiamo anche che a Roma abbiamo una incredibile quantità di disegni di violoncellisti quindi ci aiuta molto anche per l'iconografia grazie alla presenza di questo straordinario disegnatore incisore pittore che è Perleone Ghezzi che è stato utilizzato anche dal nostro Marco Ceccato ma non vi dico altro chiedo a Marco di riassumerci un po' la situazione romana che lui quella che lui ha voluto esplorare tra l'altro parlando molto della musica di questi virtuosi romani quindi un contributo anche da questo punto di vista analitico e non soltanto biografico sì buongiorno a tutti anzi buonasera a tutti certo dopo questa bellissima introduzione musicologica non sarà facile rimanere all'altezza della situazione ma volevo fare un piccolo preambolo diciamo che anche il disco il violoncello del cardinale è nato un po' da un'esigenza quella di mettere un po' di luce su diciamo un periodo piuttosto rimasto un po' sì un po' dimenticato e soprattutto una zona geografica un po' dimenticata che è appunto quella di Roma diciamo da Bologna in giù io ricordo perfettamente nel 2000 quando era ancora uno studente di violoncello barocco nei programmi di violoncello barocco diciamo la divulgazione in generale in quel periodo lì in grande scala la divulgazione del repertorio per violoncello era principalmente esclusiva delle case discografiche non tanto dei musicologi per cui di pari passo anche nei vari programmi ministeriali dei corsi di violoncello barocco andavano aggiungendosi in quegli anni nuovi repertori per violoncello barocco senza un vero e proprio criterio storico musicologico ma appunto secondo il fenomeno discografico di turno senza nulla togliere fenomeni discografici ovviamente che ci hanno aiutato tantissimo e insomma anche io insomma continuo a registrare queste cose però effettivamente all'epoca c'era già stato non so Annel Bisma che aveva registrato i concerti di Leo anche i Demi Suzuki e mi sono sempre chiesto perché non si fosse un po' approfondita la cosa poi c'è stato il disco di Gaetano Nasilo perché è il mio insegnante ma di Roma non se ne parlava di Roma non se ne parlava io continuavo a suonare nelle mie prime esperienze qui a Roma i concerti grossi di Corelli era un continuo questi concerti grossi di Corelli il maestro Corelli e i suoi violoncellisti e i violoncellisti di Corelli e questi virtuosi violoncellisti di Corelli però chi sono dove stanno queste sonate mai sentite per cui l'esigenza è nata proprio da questo insomma mi sono messo lì ho cercato di convincere il discografico non fu facile devo dire non è stata un'impresa facile tant'è vero che la prima volta ZigZag adesso è out air ZigZag non esiste più la casa discografica francese mi negò la possibilità di fare questo disco e mi convinse a fare un lennesimo disco di sonate di Vivaldi per carità è stata una bellissima esperienza però come sapete tutti Vivaldi Geminiani Boccherini questo è un repertorio violoncellistico che già dagli anni 80 in poi i grandi solisti come Christophe Kwan e Anner Bisma e lo stesso Bruno Coxet hanno sponsorizzato e hanno fatto conoscere in tutto il mondo però mancava qualcosa io me ne rendevo conto per cui quando ho potuto quando ho avuto un po' il cortello dalla parte del manico ho detto alla Casa Discografica facciamo questo disco e ho iniziato a cercare queste sonate queste sonate di questi violoncellisti quelli che io considero i violoncellisti di Corelli insomma i violoncellisti che hanno potuto hanno potuto conoscere il grande maestro Corelli hanno potuto suonare nella sua orchestra e che quindi hanno gravitato intorno a questa grande figura a diverse grandi figure come Corelli lo stesso Wendel Scarlatti e tanti altri niente la cosa la cosa interessante di questo periodo storico di questo periodo magico che io considero questo ventennio magico che va più o meno dagli anni 90 del 600 fino ai primi 10 anni del 700 a Roma questo ventennio magico in effetti è stato un ventennio che ha visto l'arrivo a Roma di grandissimi compositori una circostanza per cui grandissimi compositori come Handel Scarlatti e Corelli gravitare in questa città questo ovviamente grazie all'enorme potenziale economico dei cardinali romani soprattutto il cardinal Panfili che poi fu da in qualche maniera musa ispiratrice per il cardinale Ottoboni perché tutto nasce dalla bontà del cardinal Panfili che poi successivamente si trasferisce a Bologna e il cardinale Ottoboni acquisisce tutti gli artisti del cardinal Panfili e tra questi artisti appunto tra questi musicisti ci furono moltissimi violoncellisti arrivarono un po' sicuramente molti arrivarono dall'area bolognese e sicuramente c'è stata un'influenza anche da parte dei musicisti napoletani perché sappiamo che Napoli e Roma erano tutto sommato abbastanza vicine Corelli andò anche a Napoli a suonare nell'orchestra di Scarlatti quindi ci furono dei contatti diciamo e diciamo indubbiamente indubbiamente questi questi violoncellisti arrivando a Roma trovavano trovavano nella figura di Corelli una musa ispiratrice per cui a livello stilistico troviamo proprio delle delle assonanze incredibili io quando mi sono trovato per la prima volta di fronte una sonata di Perroni non potevo credere ai miei occhi perché stavo suonando in realtà una sonata di Corelli sul violoncello cosa che appunto mi ero sempre chiesto ma perché i violinisti possono suonare una sonata di Corelli e io no perché ecco perché perché c'erano ma erano nascoste negli archivi ovviamente queste sonate di Perroni si trovano adesso nel si possono trovarsi sia a Visentide che a Milano presso la Biblioteca del Conservatorio di Milano e oltre a Perroni ci fu un altro bravissimo compositore violoncellista Nicola Francesco Haim anche lui ci ha lasciato due sonate molto belle anche queste corelliane e molto ispirate era un bravissimo compositore Nicola Francesco Haim sapeva fare un po' tutto e rimane diciamo più famoso diciamo il suo nome ci ritorna soprattutto perché lui fu il librettista del Giulio Cesare di Handel per cui in una seconda parte della sua vita quella londinese appunto diventò in qualche maniera un punto di riferimento importante per la diffusione dell'opera italiana in Inghilterra e questa cosa diciamo del violoncellista che da Roma parte va a Londra e aiuta in qualche maniera la diffusione dell'opera italiana in Inghilterra la ritroviamo anche in un altro importantissimo virtuoso romano dell'epoca che era appunto Pippo del violoncello ovvero Filippo Amadei infatti Filippo Amadei diciamo che succederà appunto come primo violoncello nell'orchestra di Arcangelo Corelli a Giovanni Lorenzo Luglier che nel 1700 viene a mancare e e quindi succederà come primo violoncello e porterà diciamo tutto il suo tutta quanto il suo virtuosismo tecnico a Londra al servizio di Endel e non è un caso che in molte aree molte aree endeliane ritroviamo spesso una parte solistica del violoncello come nella famosa area dell'Alcina non so se ce l'avete presente c'è un'area di Morgana nell'Alcina dove viene appunto dato al violoncello questa questa parte solistica drammatica e bellissima e che io immagino posso immaginare che sia possibile che fosse stata proprio scritta per Filippo Amadei questo succedeva appunto tutto questo succedeva in questo ventennio intorno al 1710 con diciamo Corelli si ritira diciamo si ritira dall'esecuzione pubbliche era ormai molto vecchio per cui non suonava più Endel parte e va a Londra e questo comporta diciamo un cambio anche un motivo in meno per alcuni musicisti presenti a Roma in quel momento di di rimanere a Roma e partono insieme ad Endel Filippo Amadei e se non ricordo male Nicola Francesco Aime era già partito qualche anno prima e si trasferiscono a Londra al servizio appunto del del teatro reale penso mi sembra di ricordare così niente tutto qua diciamo si chiude un'epoca e ovviamente il cardinale Ottoboni che era stato ovviamente il mecenate che aveva finanziato questi musicisti non rimane senza violoncellista ma chiede appunto a un Corelli anziano chiede sostanzialmente chi posso chiamare visto che è partito il grande virtuoso e verrà chiamato da Bologna Gaetano Boni che tra l'altro scrive una pagina bellissima del violoncello scrive 12 sonate la cui opera a stampa rappresenta una delle primissime opere a stampa scritte per il violoncello nel 1717 pensate un'opera stampa stampata proprio a Roma e niente Gaetano Boni quindi va a chiudere diciamo un'epoca un'epoca corelliana del violoncello dopo si parlerà anche di un altro violoncellista a Roma molto importante che è Giovanni Battista Costanzi che secondo me va più collegato a Franceschiello al virtuoso napoletano di cui poi ci parleranno ovviamente i musicologi specializzati perché Giovanni Battista Costanzi che all'epoca di Corelli era solo un ragazzino negli anni venti entra appunto diventa aiutante da camera appunto del cardinale Ottoboni e prenderà il posto di Corelli come concertatore il posto di Corelli come concertatore e diventerà un buon un buon compositore di musica per violoncello devo dire non ha scritto grandissime opere grandissima musica vocale però ci lascia delle opere per violoncello incredibilmente innovative l'uso del capotasto ad esempio che secondo me non è una cosa non è una cosa nuova però a Roma è sicuramente una cosa nuova e proviene sicuramente dall'influenza napoletana e come è noto Giovanni Battista Costanzi sarà a sua volta maestro del grandissimo Luigi Boccherini per cui diciamo è tutto un filo cioè un filo che collega assolutamente la scuola bolognese come diceva prima Dinko la scuola bolognese la scuola napoletana e poi di lì in poi diciamo i grandi virtuosi della seconda metà del Settecento che hanno portato in giro per l'Europa il violoncello insomma grazie mille Marco e dobbiamo anche dire che nel tuo articolo davvero per noi è stata una scoperta quella di Boni e di Costanzi perché gli altri nomi più o meno si erano sentiti Haim certamente più per la motivazione che hai detto a Handelian che per il violoncello ma insomma Costanzi sta ricevendo una maggiore attenzione da parte dei musicologi proprio per le sue cantate quindi forse anche il tuo diciamo così ridimensionamento potrebbe essere poi rivoltato con nuove nuove manozioni che si stanno scoprendo cioè nel senso che era veramente un personaggio di primaria importanza certo speriamo di sì e giustamente questo sei riuscito a far capire in maniera semplicissima quello che io speravo cioè di come mai abbiamo lasciato Napoli a questo punto nella seconda parte del nostro discorso cioè quindi Emilia Romagna io la chiamo Emilia Romagna ma naturalmente a quei tempi la divisa tra lo stato della chiesa tra lo stato tra lo stato veneto insomma è un po' complicata la storia la geografia e Roma però Napoli adesso cerchiamo di far capire con i prossimi interventi che cosa veramente di nuovo abbiamo scoperto tutti pregherei la regia come si dice in questo momento di sinestesie e attraverso il professor Santoli visto che stiamo vedendo che su Facebook c'è un buon numero di persone che sta seguendo con interesse questo dibattito se ci fossero dei commenti o anche invogliando a lasciare commenti soprattutto se ci sono curiosità domande per l'ultimissima parte del nostro discorso di farcele poi pervenire in modo tale che si possa eventualmente dare anche questo spazio più pubblico e siamo arrivati quindi a Napoli e abbiamo in Guido Olivieri il nostro faro perché Guido Olivieri che da anni rappresenta la ricerca musicologica più avanzata italiana e napoletana negli Stati Uniti del sud in Texas abbiamo tra l'altro Guido ha iniziato occupandosi moltissimo di musica strumentale in generale di violino e quindi adesso il fatto quasi naturale che si passi agli strumenti bassi della famiglia del violino significa riuscire ad avere una visione veramente più ampia e sistematica ci ha già dato tante anteprime di questi suoi studi lavori con articoli con pubblicazioni per esempio fin dal 2009 abbiamo cominciato a familiarizzarci meglio col manoscritto di cui poi sentiremo abbiamo già nominato due o tre volte e l'eroe manoscritto eroe della nostra storia il manoscritto di Monte Cassino di Rocco Greco e altri e i personaggi altri che sono in quel manoscritto poi sono stati oggetto di singoli studi e anche di edizioni persino le due nuove sonate di Bononcini sono un contributo veramente fenomenale perché l'altra sonata ma poi non entriamo troppo nello specifico non era così convincente come per il livello che si che si ascoltava e che si sentiva dire di questo grandissimo virtuoso il professor Olivieri ci ha anche promesso già l'uscita a breve di un suo corposo studio in inglese che sarà dedicato proprio all'early history of the violoncello in Naples e quindi sulla rivista specializzata 17th century music e credo che quello sarà il nuovo punto di riferimento per tutte queste cose che stiamo dicendo ma noi le abbiamo in qualche modo anticipate lanciando delle idee quindi guido a tempo il compito soprattutto sottolineando questo documento che tu hai pubblicato nel tuo articolo su Supriani e ti pregherei anche di dargli questo valore come tu hai fatto nell'articolo di collegamento con una famiglia perché non sempre si pensa a quanto siano importanti i mecenati ma l'abbiamo visto nel caso di Ottoboni per Roma ma quelli napoletani nel commissionare musica che non è soltanto una questione quindi legata all'istituzione centrale ma alle singole famiglie in questo caso la famiglia dei duchi di Maddaloni che aveva già una noi conoscevamo per Leonardo Leo forse per Pergolesi ecco questo è l'orizzonte in cui si può navigare con te grazie grazie Dinko grazie voglio ringraziare tutti gli organizzatori di questa presentazione del libro un saluto da lontano a distanza a Monsignor De Gregorio e anche al professor Agostino Zino un ringraziamento particolare prima di di iniziare a Tony Florio e all'associazione Sicosagite che ha organizzato l'incontro a Napoli due anni fa e naturalmente a Dinko che ha curato con tanta attenzione e fatica questo importante credo significativo volume e io volevo appunto riconduciamo un attimo il discorso a Napoli dopo tutto il volume si chiama Gli esordi del violoncello a Napoli e in Europa e l'ho fatto in questo volume con l'articolo del mio saggio che si intitola Prassi e didattiche del violoncello nel Napoli del Settecento un bilancio degli studi ecco può sembrare un po' come dire paradossale fare un bilancio degli studi su un tema che è ancora in qualche modo in fieri che stiamo scoprendo negli ultimi anni però devo dire che innanzitutto volevo fornire in qualche modo al lettore uno strumento uno strumento di riferimento che in qualche modo fotografasse lo stato dell'arte della ricerca visto che come ricordava Dinko sono ahimè oltre trent'anni mi occupo di storie della musica strumentale napoletana quando diciamo ancora un po' gli studi musicologici si limitavano a veramente pochissimi interventi e recuperare dare un senso di un dell'importanza di Napoli come centro propulsore di questa del del violoncello come Mark Hanskiewicz ha giustamente sottolineato del violoncello classico del violoncello moderno e in effetti recuperare questa centralità del repertorio napoletano che bisogna dire ecco anche per questo un bilancio degli studi negli ultimi 10-15 anni in realtà è molto ben conosciuto dai professionisti del violoncello ecco la mia seconda nota più di pagina nell'articolo è una nota che fa riferimento non a tutti ovviamente ma ad alcune incisioni che ci sono state negli ultimi anni e che hanno recuperato e riportato all'attenzione del pubblico questo repertorio straordinario quindi bisogna in effetti quello che ho provato a fare in questo articolo è veramente indicare quelle che sono state le linee di ricerca fino a questo momento e suggerire dei percorsi ulteriori perché c'è ovviamente ancora tantissimo da fare c'è ovviamente tanto lavoro che rimane inesplorato tante fonti che rimangono inesplorati infatti uno dei percorsi che ovviamente mi sta più a cuore perché da musicologo e ricercatore delle fonti ho dedicato molti anni a questo aspetto è il recupero delle fonti documentarie delle fonti archivistiche non per così una sorta di felicismo della della fonte originaria ma come elemento essenziale per recuperare anche il contesto in cui questa straordinaria fioritura della musica sommetaria in particolare del violoncello a Napoli ebbe luogo e quindi per esempio uno dei documenti che ho incluso in questo saggio è quello a cui faceva riferimento d'Inco Fabris poco fa ed è un documento che emerge da quella miniera di conoscenze e di informazioni che sono gli antichi banchi napoletani che ormai i musicologi napoletani conoscono molto bene e qui abbiamo un documento che è riprodotto in copia nell'originale in cui Francesco Supriani Francesco Paolo Supriani viene pagato ecco leggo Ducati 3 per la sua provisione per il suo stipendio nel marzo del 1745 come violoncello di sua eccellenza il conte di Cerreto quindi siamo di fronte a un pagamento del probabilmente del Duca di Mandaloni Marzio Domenico Carafa che praticamente stipendia uno dei più grandi virtuosi di talento come probabilmente violoncello personale per le esecuzioni per le performance nella sua dimora ma anche chissà anche come probabilmente come maestro insegnante e quindi questo documento che è importante ovviamente per ricostruire anche la carriera la biografia di Supriani ma è anche un elemento fondamentale per dare un piccolo squarcio su un tema che veramente ancora è tutto da ricostruire che è quello della committenza ovviamente come diceva Linko la committenza non solo istituzionale ma la committenza dei singoli mecenati che contribuivano in maniera determinante al successo di questa tradizione e diciamo l'altro documento che inserisco in questo santo questi sono in qualche modo i ritrovamenti più recenti di una grande mole di documenti e di testimonianze sulla fioritura del violoncello a Napoli un altro documento invece ci apre ci permette di dare uno sguardo su un altro aspetto che credo che sia quello fondamentale essenziale del ruolo di Napoli nella storia di questo strumento e cioè è il documento che non io ma Michael Lawrence che è un conoscitore profondo degli archivi viennesi ha gentilmente condiviso è il documento che conferma come un flautista ma un giovane di grande talento alla corte di Vienna Franz imperatore da Fuchs quindi siamo all'altissimo livello qualitativo della cappella imperiale nel 1718 a studiare violoncello non flauto violoncello al conservatorio di Napoli con il maestro Giovanni Carlo Cailò e Cailò è si parlava prima dell'ambiente romano e degli influssi e di scambi fra Napoli e Roma Cailò è probabilmente il più grande maestro del 6-700 di strumenti all'arco non solo di Dironcello ma Cailò violinista e questo è un elemento di fondamentale importanza questo documento ci testimonia cosa? ci testimonia che Napoli è vista all'inizio del 700 come un centro fondamentale per gli strumenti per gli strumenti ad arco ma soprattutto per la didattica rivolta a questi strumenti quindi diciamo la domanda era la domanda originaria da cui è partita la mia ricerca sugli strumenti della musica strumentale napoletana era appunto dov'è questa musica strumentale perché in realtà era stata completamente dimenticata ma la seconda domanda riguardo al violoncello è stata dopo aver visto una quindicina di anni fa appunto l'importanza del primo trattato italiano sul violoncello di Supriani da dove nascono questi virtuosi napoletani come è possibile c'è questa fioritura straordinaria al Borea al Supriani Lanzetta Francesco Caporale Pasqualino tutti questi virtuosi che circolano per Napoli e per le corti europee nella prima metà del Settecento da dove nascono ecco è un fenomeno così improvviso in realtà non lo è e grazie appunto a questo famigerato manoscritto di Monte Cassino abbiamo almeno una piccola testimonianza ma fondamentale unica e importantissima della presenza del violoncello in tutte le sue declinazioni come giustamente Mark ci ha fatto vedere all'inizio nel suo intervento in tutte le possibili varianti che è difficile ricostruire con precisione in un periodo appunto in cui né la nomenclatura né l'organologia erano standardizzati ma ci permette il manoscritto di Monte Cassino di guardare all'aspetto della didattica e della formazione del virtuoso perché le sonate di Rocco Greco le antifoni di cui sono sicuro parlerà più tardi il prossimo intervento ma anche i dieci passacagli di Gaetano Francone che è un violinista non è un violoncellista o almeno lavora prevalentemente come violinista che è un elemento molto importante tutto questo repertorio indica che in realtà c'era una scuola a Napoli molto forte e non sorprende almeno personalmente non mi sorprende data l'importanza dei quattro antichi conservatori e la attività che già avevo intravisto nella musica violinistica quello che è importante sottolineare appunto io poi parlerò appunto tratto di questo manoscritto di Montecassino in questo articolo che Dinko ha già citato che apparirà spero presto nel 18th Century Music Journal facendo un po' il contesto ricostruendo il contesto di questi compositori e di questo repertorio ma è appunto molto significativo e molto importante che in questo manoscritto appaiono nel mezzo proprio nel centro nel cuore del manoscritto queste due sonate per violoncello di due sinfonie così vengono nel titolo di Giovanni Bononcini un virtuoso straordinario di violoncello musicista che viene dalla scuola emiliana e che però è attivo a Roma per molti anni e però probabilmente anche a Napoli per circostanze dinastiche che io ricostruisco ma insomma negli anni 90 si trova a Napoli quindi tra l'altro appunto questa edizione delle sonate di Bononcini è stata pubblicata in recente con la società editrice di musicologia è disponibile a tutti quindi se siete interessati a vedere questa edizione è aperta e sempre per me è importante che si mettano a disposizione queste informazioni che circolano e diciamo la presenza di Bononcini è un elemento che è di fondamentale importanza secondo me c'è questa appunto almeno simbolica presenza di una circolazione che dalla scuola emiliana conduce poi a Roma e gli scambri frequentissimi fra Napoli e Roma noi possiamo decisamente ipotizzare che ci siano dei contatti ci siano stati dei contatti profondi fra queste differenti scuole tra l'altro l'unicità del manoscritto di Montecassino è che queste fondamentalmente sono le uniche due composizioni dedicate al violoncello di Bononcini sicuramente attribuibili l'unica sonata che c'è che era conosciuta è attribuita a Giovanni Bononcini ha anche dei problemi diciamo di sovrapposizione con altre composizioni quindi diciamo è un po' dubbia quindi l'importanza della didattica credo che questo sia un elemento e del repertorio dedicato a questo e questo sia un elemento fondante della scuola virtuosistica violoncellistica napoletana e a questo proposito penso che c'è tanto ancora da fare ho citato naturalmente il primo trattato manoscritto italiano di Supriani i principi per imparare personale del violoncello che ha delle particolarità che ho già descritto in un altro intervento voglio per esempio ricordare fra le cose che diciamo appariranno prima o poi presto ci auguriamo un lavoro di recupero di un altro trattato molto più tardo della seconda metà del settecento di Antonio Guida che era violoncellista a Napoli che insieme a Giovanna Barbati sul quale insieme a Giovanna Barbati stiamo lavorando che è molto significativo perché recupera veramente in maniera approfondita e sistematica un percorso educativo del violoncellista naturalmente come ho detto siamo nella seconda metà del settecento quindi in epoca avanzata ma costituisce veramente una testimonianza preziosissima quindi quello che mi premeva sottolineare era appunto l'importanza di guardare al fenomeno violoncellissimo un fenomeno cruciale per Napoli e guardare a Napoli come un centro produttivo di questo ma anche diciamo il mio intervento voleva essere anche un incoraggiamento che naturalmente è scontato a proseguire in queste direzioni c'è ancora tantissimo da fare sull'iconografia sul recupero delle fonti sul recupero del repertorio stesso quindi certamente il lavoro è appena iniziato ma è già estremamente promettente ed è veramente importante ricollegare e costruire tutti questi percorsi alla circolazione di musica e musicisti nel 6-700 che è di cruciale importanza grazie Guido Olivieri che è l'ospite che parla da più lontano oggi perché effettivamente penso che questo orario però sia confacente agli orari statunitensi come ci conferma anche Mark che conosce bene e il ci ha dato anche la possibilità di passare al prossimo ha dato proprio il testimone perfetto al prossimo ospite perché quando Guido ha ricordato la centralità di un maestro non napoletano come Cailò che lui stesso aveva per primo individuato scoperto e pubblicato dicendo che nei conservatori napoletani è il protagonista di questo insegnamento di tutti gli strumenti ad arco questo fa capire come si arrivi in realtà a quella stessa dimensione polistrumentale che Mark nel suo primo intervento ci aveva evocato bene come si passano ad avere contemporaneamente violoncelli più grandi più piccoli bassi di violino viole un po' allargate strumenti ibridi con i tasti senza tasti ma in realtà tutto può essere utilizzato in un momento di definizione fino a che non si arriva a trovare lo strumento vincente lo strumento migliore che può mettere in luce le caratteristiche peculiari di virtuosi perché poi i conservatori sono fucine di tecnici specialisti di spaventoso livello tecnico perché sono forgiati per avere successo nella vita per trovare lavoro quindi non sono degli amatori che devono accontentarsi di quello che c'è già Matteo Malagoli viene da un'esperienza personale di violista da gamba quindi introduciamo quest'altro strumento veramente controparte in qualche modo di questo mondo violoncellistico è di violoncello e ha fatto una doppia tesi al PIMS e diciamo che poi la tesi di dottorato ha avuto Guido Olivieri nella commissione per cui alla fine con Don Vincenzo De Gregorio ispiratore e curatore che cosa significa questa questa tesi significa un prendere coscienza da parte di uno studioso giovane come Matteo che il violoncello può servire per usi anche impensabili per noi che siamo abituati a pensarlo come strumento di basso continuo per le cantate per la musica d'insieme per l'orchestra per per qualsiasi altra cosa ma non tanto per una funzione costruttiva all'interno della liturgia e invece questa è stata la grande novità del lavoro di Matteo Malagoli partendo indoviniamo un po' proprio dal al manoscritto di Monte Cassino che è veramente lo spartiacque di tutto questo punto grazie anche alla sua data 1699 che ripetiamo devo anche dire che l'essere violista da gamba ha in qualche modo condizionato anche una volontà di Matteo di resistere ai pareri anche in qualche modo un po' dubbiosi di tutti gli altri partecipanti alla giornata del 2018 su alcune sue su alcuni i suoi pensieri o su alcune sue difese appassionate del suo strumento in un ambito napoletano tanto che li abbiamo lasciati anche proprio come motivo di discussione e di apertura all'interno del suo articolo c'è un momento sicuramente cruciale nel passaggio tra il mondo della viola da gamba e il mondo del violoncello e io mi sono permesso a mia volta con l'aiuto di Antonio Florio di individuare esattamente questo quale decennio possa essere stato il decennio non è sorpresa è quello in cui arriva Alessandro Scarlatti a Napoli fino al 1683 a Napoli si usa ancora viola da gamba in molti contesti o almeno uno strumento che si chiama viola ma non sappiamo assolutamente se sia la viola da gamba c'è scritto però sempre solo viola con Scarlatti arriva a Cailò non a caso e dopo dieci anni troviamo già un ambiente così infervorato a Napoli che Alessandro Scarlatti potrà scrivere per la sua giuditta l'oratorio del 1693 una parte di violoncello solo dove per la prima volta troviamo a Napoli la scritta violoncello solo quindi non era una cosetta così tanto che Scarlatti scrive ai suoi amici romani attenzione se dovete farle eseguire trovate qualcuno che la sappia suonare perché aveva il dubbio che a Roma non ci fossero delle persone brave come quelle di Napoli per suonarla questa parte io ho preparato in questa maniera provocatoriamente il tuo intervento però come al solito abbiamo solo pochi minuti quindi invece di partire da Diego Ortiz come hai fatto e quindi col mondo della viola da gamba per arrivare al violoncello mi piacerebbe che per gli ascoltatori quelli che ci seguono tu puntassi ancora una volta su questa incredibile scoperta che hai fatto che nel manoscritto di Monte Cassino noi abbiamo il segreto di una liturgia musicale col violoncello una cosa assolutamente inaspettata prego grazie grazie Dingo grazie Antonio Florio soprattutto anche per l'invito a partecipare si sente sì grazie soprattutto per l'invito a partecipare a questa fondamentale giornata di studio sull'origine del violoncello a Napoli nell'ottobre del 2018 come già anticipato anche da tanti da tu stesso da te stesso e una piccola precisazione grazie di questo di questa particolarità nel presentarmi come violista di gamba certo sono stato fino adesso nella storia l'unico bienio superiore specialistico fatto a Santa Cecilia Roma ecco quindi però io nasco violoncellista sono violoncellista fin dall'età di otto anni e quindi è stato il mio primissimo strumento che ho insegnato anche più di vent'anni in conservatorio ma la viola di gamba è stato un amore fin dall'adolescenza dopo che andai casualmente ad un concerto ho detto io prima o poi voglio abbracciare anche questo strumento quindi da doppio strumentista da doppio strumentista di questi due strumenti che ho voluto portare appunto a livelli professionali e adesso insegno anche tutti e due in due diverse situazioni e appunto ho approfondito anche ho voluto approfondire questo discorso a provocare come giustamente hai detto tu dico sulla questione a Napoli che arrivò Diego Artis e quindi con Silvestre Oganassi a Venezia sono i due punti focali della viola da gamba nel rinascimento italiano e come già anticipato dai miei predecessori anche dal mio correllatore Guido che sono molto contento di essere insieme con lui oggi come tutti gli altri amici e colleghi musicisti e musicologhi musicologi senore peroncellisti la mia attenzione già dal 2008 grazie al defunto Don Faustino Avagliano che fu l'archivista di Monte Cassino e che mi illuminò d'immenso se posso citare gratuitamente questa citazione sul manoscritto in questione si è focalizzata per mio specifico interesse sempre sulla possibilità di osservare il violoncello non tanto dal punto di vista sempre consolidato del sonatismo quindi della forma sonata della forma concerto ma cosa ha fatto cosa può aver fatto in chiesa e questo è stata una provocazione tra l'altro che venne da una composizione napoletana del novecento storico e che magari se riesco ci arrivo dopo e quindi focalizzando i miei studi approfonditi che poi ovviamente si sono anche ampliati per mia formazione a livello professionale nel canto gregoriano nella liturgia e nell'organo ho potuto approfondire scientificamente questo corpus di composizioni di undici composizioni presenti in questo manoscritto del signor Rocco Greco con esattamente un titolo particolare ognuna arica un titolo iniziale cosa sono questi titoli in latino sono esattamente gli incipit di antifone dei secondi respri per differenti solennità liturgiche quindi qui ci troviamo all'interno della celebrazione dell'ufficio dell'ufficio dei secondi respri con la particolarità della solennità oggi è impensabile dopo il concilio Vaticano II pensare ai respri solenni con una prosopopea di strumenti oltre eventualmente magari all'organo con pagina corale Napoli invece ci insegna come unico caso in assoluto nella storia della musica e soprattutto del cattolicesimo della liturgia cattolica di questa particolarità con undici e questo fa strano questo numero undici che non è dodici non è dieci come i passagagli di Gaetano Francone questo numero undici probabilmente qualcuno è rimasto indietro oppure sono composizioni su commissione singola di varie istituzioni religiose partenopee per cui sono diventate undici sono antifone di varie solennità le prime e tre sono in ordine nel calendario liturgico pre conciliare post tridentino ma anche attuale post conciliare e sono per un antifona dei secondi vespri dell'ascensione della pentecoste e del corpus domini poi altre sono tutte feste mobili sono feste liturgiche mobili in cui ci sono ovviamente come tutte le feste e le solennità del calendario liturgico l'ufficio dei vespri quindi eccetto una eccetto una che mi ha fatto studiare molto più approfonditamente che è stato e qui c'è un collegamento importante che è stato il responsorio di Sant'Eligio e il responsore di Sant'Eligio non esiste sui più importanti testi di canto gregoriano attuali come il graduale triplex il graduale novum e anche il vetusto storico importantissimo libero valis ma va cercato in un unico codice notato presente a Parigi unico al mondo in cui c'è la festa di Sant'Eligio ma Sant'Eligio sappiamo che una delle Sant'Eligio maggiore è una delle chiese più importanti anche attuali di Napoli e era sede di un conservatorio sono stati citati da Guido Ligieri conservatori famosissimi blasonati conservatori e i quattro conservatori napoletani maschili ma ce n'erano altrettanti se non cinque femminili e Sant'Eligio maggiore era un conservatorio femminile anche se ovviamente purtroppo dico purtroppo anche da maschio hanno avuto minore importanza ma probabilmente anche la pratica era minore rispetto alla didattica che veniva effettuata nei conservatori maschili dove sono passati i più grandi musicisti in assoluto che hanno fatto la storia della musica a Napoli e quindi l'analisi si è incentrata appunto scientificamente su questo discorso ma sul discorso anche dell'antifono originale perché a questo punto Rocco Greco avrà sicuramente avuto delle commissioni dalle varie committenze ecclesiastiche per questa o quell'altra solennità e quindi sulle antifone originali antifone originali che come sappiamo sono inserite nell'Octo Eicos Gregoriano negli otto modi consolidati e quindi hanno ognuno un loro modo e qui lo studio sull'afferenza con il tono più che tonalità con il tono utilizzato anche tonalità utilizzato da Rocco Greco ho fatto uno studio approfondito ho proposto uno studio una comparazione approfondita sull'attinenza del modo Gregoriano con la tonalità utilizzata da Rocco Greco che in alcuni casi esiste in alcuni casi è un po' più lontana ma questo potrebbe essere come sempre nella proposta del canto Gregoriano potrebbe essere una trasposizione frutto di cantori che ovviamente eseguivano in altri in altri in qualche tono più basso qualche tono più alto a differenza se erano maschi o femmine oppure anche in grado o meno di affrontare quell'estensione vocale e quindi lo studio si focalizza su questo discorso il responsore di Sant'Eligio appunto è una scoperta importante anche per il sottoscritto perché va a completare perché specialmente si poteva sacerdos dei e si poteva essere sacerdotes e uno poteva intenderlo come uno sbaglio come un errore ma invece tutto è molto preciso e quindi sacerdos dei è solo questo si trova solo nella festa di Sant'Eligio e quindi ci ricollega Sant'Eligio Maggiore a Napoli mi interessa completare il discorso con i conservatori femminili pensando sempre a Napoli che questa è una digressione storica ci fu il primo diploma in composizione femminile italiano in conservatorio San Pietro e Mariella che fu Emilia Gubitosi Emilia Gubitosi importante musicista compositrice moglie di Franco Michele Napolitano altro importante musicista questo però con la speciale concessione dell'allora ministero della pubblica istruzione perché alle donne non le ha permesso il diploma in composizione ma questa donna era dotata di straordinaria bravura per cui le fu concesso di diplomarsi in composizione in questo nata nel 1887 quindi all'inizio del ventesimo secolo quindi è una tutta la mia tutto il mio studio di dottorato che ho effettuato in Pontifici Istituto di Musica Sacra come musicologia si focalizza sulla presenza partendo appunto dal Rocco Greco la presenza del protagonismo del protagonismo di questo strumento del violoncello all'interno dell'esperienza ecclesiastica ed è stata appunto la mia tesi di dottorato che è stata pubblicata dalla Serassi Edizione che come questo volume che abbiamo fatto per gli atti della giornata di studio napoletana anche la mia sorprendentemente è in esaurimento e spetterà quell'editore decidere il prosieguo eventuale e proprio perché a Napoli proprio perché a Napoli c'è stata un'assoluta continuità un'assoluta continuità non certo all'interno specifico dell'ufficio del Vespro e del Vespro solenne ma la attinenza e la volontà di rendere questo suono il suono del violoncello anche nei secoli a venire fino al 1908 in cui poco prima della prima guerra mondiale dopo subito il morto proprio del 1903 c'è l'ultima composizione importante di ispirazione religiosa di ambito sacro religioso napoletano e quindi il mio studio si focalizza Matteo ma purtroppo devo interromperti perché stiamo purtroppo siamo presi il piacere di parlare tanto delle cose che ci piacciono avevamo pensato invece che per le 18.30 questa parte sarebbe già stata chiusa per permettere poi altri interventi e sapete che gli ultimi sono sempre più sacrificati ma non significa che siano i meno interessanti anzi l'avete capito il contributo di Matteo Malagoli è veramente la sorpresa delle sorprese all'interno di questo volume quindi lo ringraziamo tantissimo invitando tutti quelli che sono incuriositi da andarselo subito a cercare questo libro e abbiamo perché dobbiamo dare spazio ancora a Luigi Sisto che ci rappresenta il mondo della costruzione dei violoncelli che è altrettanto importante abbiamo parlato di come i conservatori si appropriano di questa figura di strumentisti polistrumenti che poi alla fine vanno a specializzarsi in uno strumento e non si poteva fare senza una industria parallela di costruzione sempre più specializzata che quindi va incontro esattamente a quello che serviva quello che ha detto all'inizio il nostro primo contributore di oggi era avere uno strumento piccolo dava evidentemente una possibilità di virtuosismo diverso rispetto ai violoni che avevano una loro struttura da basso continuo allora Luigi Sisto non esistevano soltanto i Gagliano e i Vinaccia a Napoli e tu lo hai messo bene in evidenza nei tuoi studi precedenti sui diutai tedeschi ma anche in questo contributo di cui ti prego di dare veramente un flash lasciando così un po' di curiosità il microfono Luigi devi devi attivare il microfono ok buonasera sarò brevissimo sarò accolgo l'invito di Dinko grazie a tutti voi per avermi invitato in effetti sì mi ero occupato molto del periodo che precede l'epoca di cui tanto stiamo discutendo ma restava da indagare quel periodo che va dopo la peste del 56 del 1656 e c'è stata c'era stata una lettura di un documento della Biblioteca Nazionale di Napoli un discorso scritto da Camillo Tutini che mi aveva lasciato molta curiosità in realtà Tutini nel 1664 fa un compone una sorta di cronaca sul regno di Napoli scrivendo ad un certo punto che vi sono un'infinità dice proprio così di botteghe di chitarrari di violari che fanno lui elenca tutta una serie di strumenti musicali gliuti arciliuti chiorbe burdelletti chitarre viole violini violuni arpe e colasciuni quindi evidenzia in buona sostanza una realtà produttiva che sembrava scomparsa con la peste del 56 perché sappiamo che la popolazione di Napoli era stata dimezzata dai 300.000 abitanti che la città contava prima della peste si era passata a 150.000 circa quindi anche tutta l'attività dei costruttori di strumenti musicali prevalentemente di origine tedesca era terminata appunto con la peste e quindi questo periodo risulta di particolare interesse proprio per questo passaggio di consegne che poi è un passaggio particolarmente significativo perché assistiamo alla nascita di quella che mi è piaciuto definire scuola alitaria di Napoli un po' così come lo abbiamo fatto lo si fa per altre per la scuola musicale dicevo un passaggio di consegne dai costruttori tedeschi a quelli appunto napoletani però il passaggio non è immediato perché si registra per esempio l'attività di alcuni rappresentanti di dinastie come i Tiffenbrücker o i Reilich che sono stati importanti dinastie tedesche ancora negli anni dopo il 56 e soprattutto quella di Mattias Poppeller che in realtà proviene dalla Bohemia ci ha lasciato un bellissimo esemplare di violoncello insomma quindi ho voluto indagare l'attività di questi costruttori le loro relazioni con i napoletani un momento di particolare sottolineo soprattutto il ruolo svolto da Poppeller e gli antichi conservatori e soprattutto l'inizio di una delle più grandi dinastie che è quella di Gagliano sui quali si sta scrivendo adesso una pagina nuova ma sappiamo che Gagliano possiamo dire è l'unica grande dinastia d'Italia che ha lavorato ininterrottamente a partire da questo periodo con Alessandro in realtà forse anche un po' prima di Alessandro ininterrottamente fino a Vincenzo Gagliano quindi fino alla fine dell'Ottocento e che appunto con tutta probabilità anzi adesso forse possiamo dire con certezza ha cominciato a lavorare insieme a Poppeller insieme ai costruttori di questo periodo che sono Giovanni Battista Mautone ad esempio tutta una serie di nomi di napoletani che abbiamo riscoperto attraverso la lettura per esempio di un bellissimo documento dell'archivio di Stato di Napoli che è un documento relativo ad una lite giudiziaria tra costruttori e produttori di corde di origine abruzzese che ci ha restituito però importanti informazioni sull'attività anche di Alessandro Gagliano che possiamo dire con molta probabilità non è stato mai avviato a quell'apprendistato gremonese di cui sempre abbiamo detto ma ha lavorato con continuità per i conservatori napoletani contrae matrimonio a Napoli in quel periodo quindi abbiamo aggiunto anche questo piccolo tassello quindi il contributo prende in esame il mio contributo prende in esame l'attività di questi costruttori collocandoli anche nel tessuto urbano cittadino evidenziando quali erano i luoghi di attività quali erano la destinazione della loro produzione principalmente perché Napoli poi aveva da questo punto di vista sempre avuto una particolarità le botteghe non erano collocate in una sola strada come accadeva per esempio a Bologna a Firenze nella stessa Roma ma a seconda della destinazione della committenza i riutai un po' si spartivano si dividevano i luoghi della città e quindi il mercato evidentemente e alla fine del contributo presento una serie di documenti d'archivio sia dell'archivio di Cesano che dell'archivio di Stato che ci consentono di tracciare meglio questo momento di inizio appunto di quella che ho voluto definire scuola litaria di Napoli c'è per esempio un documento nuovo sulla dinastia dei Filano una dinastia che avrà anche questa grande fortuna nel corso della storia di Napoli insomma e crediamo che nella produzione di questi strumenti abbiano dato ancora un contributo in tedeschi ma soprattutto si definisce meglio in questo periodo dell'attività dei Napoletani che sembrava non essere presentata prima della peste e invece proprio in questo periodo è maggiormente meglio rappresentato appunto da tutti questi nomi un'ultima cosa in questi documenti dell'archeo di Stato si fa menzione di tanti costruttori che svolgono insieme l'attività di musici ancora c'era questa particolarità quindi i musici erano spesso anche costruttori c'è l'attività di Poppeller di Albanese ad esempio di un buon numero di questi costruttori che erano anche musici quindi insomma sono stato brevissimo chiudo così sperando di poter dire che questo piccolo contributo abbia fatto luce perlomeno sugli inizi di questa scuola ma c'è ancora tanto da fare perché insomma tutto il periodo che appunto è quello della fine del 600 i primi anni del 700 va ancora indagato meglio per poter restituire maggiori informazioni sull'attività dei primi costruttori di questa scuola lidaria di Napoli è stato conciso ma hai dato l'idea della prospettiva enorme che c'è e basterebbe pensare al tuo ruolo come conservatore responsabile degli strumenti storici della parte museo del conservatorio San Pietro Maiella di Napoli con tutti quei violoncelli splendidi alcuni in grado di suonare quindi da rimettere in qualche modo in gioco e tutti gli studi di Luigi Sisto sono tutti improntati a questa massima serietà dal documento alla rassi esecutiva e alla riesecuzione non tolgo neppure un secondo più alla parte finale il rush finale perché alle 19 dovremmo chiudere questo nostro collegamento e ci restano due ospiti molto graditi da ascoltare e chiedo però soltanto a professor Santoli se possiamo sapere che cosa hanno detto i nostri coloro che ci seguono su YouTube benissimo grazie allora è pervenuta una riflessione a parte appunto ecco i vivi sensi di apprezzamento espressi a tutti voi che siete qui collegati per le vostre precise puntualizzazioni e importanti anche riflessioni critiche su questo precevole punto volume una serie di domande sono tre esattamente appunto le domande che mi sembrano quelle più pertinenti anche per quello che stiamo attualmente dicendo esponendo sviluppando da parte della collega dalla professoressa Milena Montanile italianista dell'Università di Studi di Salerno che si è occupato a lungo anche di cultura umanistico rinascimentale soprattutto merionale in un ultimo anche studi importanti sul settecento bene appunto la collega la professoressa Milena Montanile che saluto e ringrazio ha mandato appunto questa serie queste tre domande tramite appunto whatsapp la prima è sulla circolazione di musica e musicisti tra sei e settecento esiste un minimo di bibliografia quando è iniziata l'interesse a Napoli per questo tipo appunto di strumenti e che in che direzione si sono mossi questi studi quindi queste sono le tre appunto i tre interventi le tre domande che sono state recuperate dalla chat di youtube grazie allora Carlo se hai la pazienza di riscriverle nella chat di questo zoom così sono disponibili per tutti i partecipanti può essere una cosa a cui pensare un momento ma naturalmente potremo rispondere anche poi eventualmente con un messaggio scritto alla professoressa dell'Università di Salerno invece un altro collega dell'Università di Salerno è presente tra noi se l'hai già citato Angelo Meriani vorremmo sentirlo perché lui naturalmente è un greci autorevolissimamente di musica greca ma ha una grande dimestichezza con gli strumenti adatto infamisi tra i primi acquirenti di questo volume bisogna dire prego Angelo un grande piacere il volume il volume sono venuto a conoscenza del volume perché uno dei miei figli è violoncellista e ha detto papà compriamolo immediatamente questa è una cosa interessante e in effetti glielo ho rubato subito l'ho letto avidamente insomma mi è piaciuto molto questo libro perché ho visto a parte diciamo la puntualità dei singoli contributi che mi ha particolarmente colpito insomma è un'occasione insomma che mi sono persa quella del 2018 sarebbe stato bello partecipare ma ecco la puntualità dei riferimenti organologici in particolare di Mark Vanshevik di di Matteo Malagoli di Marco Cercato insomma e di Luigi Sisto l'integrazione di questi aspetti organologici con quelli più specificamente di repertorio di costruzione cioè come lo strumento cresce con il suo repertorio mi ha molto colpito e il repertorio si si determina e determina i cambiamenti dello strumento insomma questa interazione tra dimensione diciamo creativa e dimensione organologica mi ha molto mi ha molto colpito e divertito e divertito perché no mi lascia molte molte come dire molte domande aperte cioè per esempio la relazione l'articolo di Malagoli che per me totalmente era un mondo sconosciuto cioè non immaginavo che fosse così ricca la presenza del violoncello o comunque che esistesse una presenza del violoncello nella liturgia ecco questa è una una cosa molto interessante l'argomentazione di Vasevic mi sembra sul violoncello sul violoncello da spalla mi sembra decisiva e una cosa che mi colpiva era questa cioè noi adesso cerchiamo di fare una cosa contraria a quella che hanno fatto i violoncellisti i liutai da che è nato lo strumento fino a oggi parlava diceva appunto Mark prima di progressivi adattamenti alle prassi che si modificavano cioè lo strumento grande si rimpicciolisce il piccolo si rimpicciolisce ancora eccetera cioè un recupero del patrimonio precedente per riempiegarlo in un repertorio che si va progressivamente creando invece noi siccome abbiamo questa diciamo questa malintesa filologia ecco diciamo vogliamo ricostruire anche quello che non è mai esistito ecco questo mi ha molto colpito che probabilmente questo violoncello da spalla se è esistito non aveva queste queste caratteristiche però noi lo vogliamo lo vogliamo ricostruire l'abbiamo ricostruito funziona non male funziona non male no pare perché insomma è stato utilizzato da un bravo strumentista però insomma ecco quindi grande compiacimento per il volume per il ringraziamento ai ai oramai li posso chiamare amici perché stiamo da circa un'ora ci guardiamo io li guardo parlare li ascolto Dinko ha avuto una bellissima idea di ideare la giornata di studio e Carlo pure ha avuto un'eccellente idea nel volerla presentare io vi ringrazio non so se davvero grazie anche perché lo sguardo dall'esterno è molto importante ecco perché era importante anche sapere che c'è un bel gruppo di persone che sta seguendo questa questa trasmissione zoom con vari sistemi anche anche su facebook si è sviluppato un piccolo dibattito perciò prima ho confuso youtube e facebook in risposta alla nostra circolazione insomma era quello che volevamo smuovere un po' le acque e abbiamo l'ultimo ospite invitato a questo incontro che parla da Barcellona ed è un grande amico della musica italiana per violoncello perché ha dedicato due dischi uno a Giacomo Facco musicista del nord dell'Italia ma con grandi ramificazioni nei suoi viaggi nel proposito di circolazione dei musicisti dalla Sicilia alla Spagna al nuovo mondo e poi questo disco qui che ha presentato appunto venendo a Napoli nel 2018 che è dedicato a Francesco Supriani in cui suonava una serie di quelle sinfonie e sonate dei manoscritti che noi abbiamo di Supriani su Supriani la ricerca è continuata ci sono anche piccole novità biografiche in corso come abbiamo visto anche dall'intervento di Guido ma credo che sentire il parere di Guillermo Turina sulla come come vede adesso questa questa figura e poi tutto quello che lui vuol dire anche in generale sulla sulla tematica svolta in questo libro io non parlo italiano lo sento lo sento molto parlerò in castellano un poco despacio però questo libro mi piace una meraviglia che per fin exista perché quando io empecé a explorare il repertorio su Supriani apenas había algunos artículos qui e allà di Guido per esempio che lo consulte e me encantaron però per fin abbiamo un primer volumen che può suponare un primer passo enorme per l'estudio della musica napoletana e soprattutto del violoncello in in me caso dopo studiare su su priani empecé a investigare moltissimo sobre los origenes del violoncello en España e è impresionante la influencia non solo di Italia sino di Nápoles e sus violonce l'estudio il primo documento in cui aparece il nome violoncello lo encontramos in Barcelona nel 1708 e è la contratazione di Francesco Supriani e tutto lo che supuso eso per il desarrollo del violoncello in mi paese è fondamentale di ho durante tutto il settecento troviamo musici italiani violoncello italiani lavorando in i più importanti della corte dei borboni da Supriani faco poi Domenico Porretti che è un gran desconocido però che fu considerato come il mejor violoncello de su tempo e credo che studiò con Supriani in Nápoles anche era di Sora che mi sembra che è un poco più da Roma però la influencia fu total durante tutto il settecento e non solo in España la la otra investigazione che ho realizzato e che mi ha dato molte satisfacione che fuori la musica de los hermanos Duport parisinos tirando hacia atrás viendo quiénes habían sido sus maestros también llegamos a Nápoles porque supuestamente la leyenda aunque probablemente sea apócrifa la leyenda dice que el gran Martín Bertó dejó la viola de gamba para siempre cuando escuchó a Francesco Alvorea entonces de alguna manera se suele decir que todos los caminos llevan a Roma pero en el caso del violoncelo casi todos los caminos llevan a Nápoles y este libro que habéis construido y del que tuve la suerte de participar en el congreso que hicimos en octubre de 2018 me parece fundamental para que sigamos construyendo y sigamos encontrando repertorio tan interesante como el del que nos hablaba Mateo o de los que nos ha hablado Marco y bueno adelante sigamos trabajando y muchísimas gracias por permitirme estar aquí con vosotros muchas gracias a ti Guillermo como habéis seguramente seguido muy fácilmente porque el castellano pulido de la zona de Barcelona de nuestro era veramente muy simile a un italiano de mezcla como si dice no allora pero la frase que ha detto di solito si dice che tutte le strade portano a Roma e invece nel violoncello tutte le strade sembrano portare a Napoli era il nostro punto di partenza in questo incontro in questo lavoro è è detto anche da Marco Ceccato pur parlando di Roma no cioè quindi è così perché è una dimensione di circolazione quindi la domanda che ha fatto la professoressa Milena Montanile è una domanda molto in qualche è una domanda tripla ma anche quasi una sola domanda con tre facce io inviterei chiunque voglia risponderle aiutarla a prendere nota del suo email nella chat e lo farò anch'io perché ci sono tante pubblicazioni e anche progetti internazionali sulla circolazione dei musicisti che hanno prodotto una bibliografia molto molto ampia ma sui violoncellisti c'è pochissimo c'è ancora poco lo stiamo costruendo pian piano grazie all'aiuto di tutti voi specialisti voi esperti e devo dire che è contagioso il violoncello evidentemente e qui faccio anche la piccola confessione privata di dirvi che pur essendo un musicologo anch'io ho un passato di musicista e questa è una battuta perché tutti dicono che i musicologi sono i musicisti falliti che non possono suonare e si dedicano a scrivere però tra gli strumenti che ho amato di più e che ho studiato purtroppo soltanto alcuni anni in conservatorio da piccolo c'era due anni di violoncello che sono stati incredibilmente formativi per un liutista quale poi sono diventato un suonatore di liuto allora la discussione odierna non la possiamo fare perché come avete capito noi dovevamo contenere questo incontro videoconferenza in un'ora e mezzo ma in realtà non si riesce a contenere l'entusiasmo adesso soltanto se ci sono dei flash delle cose che qualcuno vi è in voglia di dire di aggiungere rispetto che avevo promesso un secondo giro a tutti si può fare veramente nell'ambito di una specie di giro rapidissimo di saluti quindi vi lascio questo spazio contando fino a 30 mentalmente se non nessuno prende la parola perché lo sto spaventando lascerei a Carlo Santoli il compito di chiudere degnamente questa bellissima iniziativa che rimarrà nella storia perché si potrà riascoltare su YouTube il canale dedicato da sinestesie che ci ospita ci ha ospitato oggi quindi da parte mia grazie davvero a tutti e chiunque fosse interessato anche di coloro che ascoltano può scrivere direttamente agli indirizzi che poi sinestesie fornisce grazie Carlo sì grazie a tutti voi io non so portarsi che forse sarà l'età nei miei 52 anni ma il collega il caro collega il professor Ancelo Mediani lo sa che io purtroppo vado a commuovermi perché mi commuovo mi commuovo innanzitutto mi commuove la cultura quando io ho per dirla con Montale un'occasione sempre di apprendimento di acquisizione di arricchimento appunto umano concettuale culturale e quindi Dingo Fabris Luigi Sisto tutti quanti voi che non voglio appunto qui nominare eccetera ma soprattutto le istituzioni che hanno voluto organizzare questo importante incontro culturale internazionale ovvero il comune di Gesualdo l'assessorata all'ocultura la fondazione Carlo Gesualdo l'istituto di anni gli istituti gesualdiani anche appunto la sovrintendenza di Avellino il ministero dei beni ambientali culturali e territoriali con il dottor Flavio Petrocione l'Andis l'associazione nazionale di geni scolastici e tutta una grande famiglia tutto un grande consesso di persone né concetto autorevole ante omnia il paradigma di valore per dirla con De Sanctis mio conterraneo sono le persone quindi persone che hanno una ricchezza che prima che sia intellettuale culturale e voi l'avete appunto come grande patrimonio intellettivo come grande contributo alla storia alla rinascita di questo nostro paese della comunità civile dell'umanità perché la cultura ha una cifra appunto di questa portata la cifra appunto della cultura è quando effettivamente si contribuisce autorevolmente significativamente a fare cultura a dare un contributo importante significativo al consesso sociale al consesso umano e quindi al nostro poi alla nostra grande comunità è una comunità di intenti è una comunità programmatica l'associazione sinestesie si muove su più fronti come avete potuto vedere non soltanto la letteratura le arti la musica una grande interazione una grande concertazione di intenti programmatici è tutto messo a disposizione gratuitamente perché ovviamente il mio impegno come studioso come intellettuale poi successivamente anche come promotore organizzatore della cultura è quella sempre di aggiungere qualche piccola tessera allo sviluppo appunto della nostra territorialità ma soprattutto alla polarizzazione attraverso di noi del patrimonio culturale umano e civile grazie a tutti ringrazio ovviamente la vostra partecipazione con partecipazione e quindi vi do appuntamento alla prossima iniziativa invito ovviamente Angelo Meriani invito tutti voi studiosi musicologi a seguire la Summer School su Carlo Gesualdo seconda edizione su piattaforma Zoom con trasmissioni in diretta su YouTube quest'anno ci saranno molte istituzioni promosse e organizzate dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno ringrazio nuovamente la mia direttrice la professoressa Rosa Maria Grillo ringrazio tutti i colleghi che me ne fanno parte nonché anche altre istituzioni importanti come la Fondazione Gesualdo e l'Istituto Ideano di Studi Gesualdiani grazie ancora arrivederci arrivederci a tutti arrivederci a tutti e grazie 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 a tutti i musicologi grazie buona serata a voi in Italia esisti Guido che tra poco cambia il presidente gente grazie a tutti